invito alla vaccinazione anche dei più piccoli. Giornata mondiale dei malati oncologici, preservarli dalla pandemia è stato uno dei compiti principali delle strutture sanitarie, lo IOV si è distinto anche perché ha aumentato in questo periodo così difficile anche le prestazioni. L'incidenza del Covid nei pazienti oncologici non è stata altissima, si tratta di poco più del 3% su una popolazione che in Veneto si attesta intorno alle 35.000 persone, secondo le stime ricavate dagli studi registrati nel registro tumori della regione. Molto si è fatto per preservare questi pazienti del contagio, tanto che allo IOV, Istituto Oncologico Veneto, non si registrano focolai nemmeno in questo picco pandemico. Lo IOV si sta preservando anche perché è previsto proprio che sia un istituto che non è deputato alla risposta per il Covid in prima battuta, noi non abbiamo il pronto soccorso, non abbiamo reparti Covid aperti, quello che stiamo facendo è da una parte il supporto ai nostri pazienti per quanto riguarda tutta la campagna vaccinale, che abbiamo selezionato i singoli pazienti, invitandoli, spiegando e soprattutto anche decidendo quando fare la vaccinazione. Dall'altra parte tutta la campagna dei tamponi che in queste settimane, soprattutto a gennaio, visto l'andamento epidemico, era di circa 2.800 tamponi al giorno tra dipendenti e pazienti per far sì che il paziente che entrava anche in terapia diurna fosse certo di essere negativo perché ovviamente le decisioni terapeutiche dipendevano anche da questo. Quali sono le preoccupazioni che riscontrate da parte dei pazienti? Di non avere risposte nei tempi necessari per la loro diagnosi o per il loro cammino terapeutico. Ecco, proprio questa situazione pandemica, il ritardo nelle visite, negli interventi un po' in generale di tutte le strutture sanitarie nazionali hanno indotto il mondo scientifico a evidenziare come forse e saranno anche in aumento le patologie oncologiche in un prossimo futuro o si arriverà più tardi ad una diagnosi. Questo lo state già vedendo, è una preoccupazione? La preoccupazione c'è ovviamente che i pazienti arrivino in tempo e appena hanno i primi sintomi devono rivolgersi ai percorsi di diagnosi quindi al medico di base o nel caso specifico agli oncologi se già hanno questo tipo di sospetto. Questa è una preoccupazione che vale sempre, cioè la prevenzione e l'autovalutazione è il primo step che deve essere garantito sempre. Chiaro che gli ospedali messi sotto pressione per rispondere a pazienti covid positivi è evidente che le risorse sono quelle che sono, gli spazi sono quelli che sono devono decidere e l'emergenza in questo momento era quella di assistere chi aveva un rischio imminente per la vita. Noi questo non l'abbiamo vissuto e anzi abbiamo potuto aumentare in modo veramente considerevole l'attività sia rispetto al 2019 ma anche rispetto al 2021 su tutto l'ambito che ci compete. E parliamo anche di questo...